Il disastro da parte del sindaco Matteo Lepore a Bologna sulla gestione dei lavori e dei cantieri. Terribile che attorno ai nostri ospedali, parlo del Sant'Orso Lamalpighi e del Maggiore, ci siano cantieri ovunque, ospedali letteralmente circondati, quindi problematiche per i lavoratori e le lavoratrici della sanità, intanto per raggiungere il luogo di lavoro. Al netto che i parcheggi non ci sono, al netto che quei pochi parcheggi che c'erano li hanno tolti, al netto dei nostri appelli e delle nostre denunce sul tema dell'occupazione, anche per la questione dei cantieri, delle strisce blu, quindi una gestione disastrosa che non solo mette a rischio la possibilità di raggiungere subito il pronto soccorso pediatrico, il pronto soccorso generale da parte dei cittadini, ma anche che crea enormi disagi a tutti i lavoratori e lavoratrici della sanità. Quindi annesima gestione disastrosa di un sindaco che purtroppo non ascolta le istanze, non solo dei propri cittadini, ma nemmeno delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Quindi, caro sindaco, sarebbe opportuno che prima di circondare i nostri ospedali di cantieri si dovrebbe magari confrontare con chi dentro ci lavora e con chi le potrebbe spiegare che cosa significa correre in pronto soccorso, perché adesso è quasi impossibile, senza bloccarsi, arrivare a pronto soccorso del Sant'Ursola oppure a pronto soccorso pediatrico, oppure in via Zaccherini-Alvisi e anche per quanto riguarda il Maggiore.